è il vostro compleanno o il vostro nomastico? beh comunque fatevi regalare un bel mazzo di fiori oggi perché? perché oggi vi preparerò la marmellata di fiori è semplicissimo basta avere dei bei fiori colorati profumati e soprattutto commestibili e poi ho deciso di prepararvi la lemon card andiamo a conservare marmellata di fiori avete visto che belli? potete scegliere tutti i fiori che preferite per fare questa marmellata quindi ci occorreranno 400 g di fiori 2 mele 2 limoni e 200 g di zucchero bianco semolato procediamo dovete fare questo togliere la parte posteriore di ogni petalo di fiore quindi con un coltellino del genere fate così li tagliate li mettete piano piano da parte e continuiamo a tagliare è una marmellata buonissima questa che stiamo per preparare ovviamente è molto delicata però è molto buona questa è una marmellata che potrete anche aggiungere come un velo di gelatina a dei dolci come il banana bread lo conoscete? banana bread banana bread è un dolce buonissimo americano appunto a base di banana con delle noci e la marmellata di fiori ci sta benissimo quando è pronta la tagliate a metà e spalmate questo velo di marmellata come con la sacher che si fa con la marmellata all'arancio questi sono dei petali che io mi sono tenuto da parte che magari anche voi potrete fare li lasciamo in acqua fredda e così prima di invasare metteremo qualche petola all'interno del nostro barattolo quindi prendete dell'acqua fredda e li lasciamo così ecco qua continuiamo con questi qua che sono bellissimi oppure la potrete mettere anche accanto a un'arista di maiale o un bollito comunque è una salsa molto leggera che non va assolutamente ad alterare il sapore il gusto di quello che starete per preparare per mangiare qui non c'è da levare quasi nulla potete farlo anche così con le dita levate la parte posteriore di questo fiore bellissimo che vi ricordano queste le violette bene ora prendete una grande ciotola e andiamo a mettere tutti i fiori e i petali e li andiamo a ricoprire con zucchero e succo di limone e li andiamo a lavorare così delicatamente per non rovinare tutti i petali e li lasciamo un po' riposare con questa miscela di zucchero e limone quindi prendiamo un limone andiamo a sprenderlo per prendere il succo questa pure sembra una marmellata molto complicata e molto difficile però non lo è assolutamente no basta solo lavorare i fiori con molta delicatezza e ovviamente scegliere i fiori più belli che potete così la marmellata avrà dei colori molto belli bene riprendiamo i nostri fiori così lo zucchero e andiamo a ricoprirli così anche in questo caso lo zucchero non lo utilizzo tutto magari più tardi lo andremo a mettere in cottura nel frattempo le mele le tagliamo li priviamo del torsolo dei semi teniamo la buccia che ci serve per addensare maggiormente questa confettura e la tagliamo a dadini in questo modo attenzione i semi così quindi i fiori li state facendo riposare con zucchero e limone adesso mettiamo in cottura le mele con dell'acqua fino a ricoprire tutte le mele quando la mela sarà un po morbida aggiungeremo i fiori e faremo cuocere per un'ora circa fino ad ottenere una giusta densità e poi magari potete frullarne una parte per ridurla una purea e l'altra la lasciate così per intravedere anche tutti i fiori accendiamo il fuoco mettiamo le mele in pentola bene copriamo le nostre mele aggiungiamo un po di succo di limone anche alle mele mentre cuociono potete prendere anche l'altro limone ce ne serve un po di succo e l'ultima metà l'andremo aggiungere ai fiori bene così mescoliamo bene lavoriamo un altro paio i nostri fiori così delicatamente avete visto come si sta creando una crema di zucchero e limone intorno ai fiori? questo è buon segno e vuol dire che sono pronti per essere messi in cottura con le mele che nel frattempo si saranno un po ammorbidite controlliamo bene possiamo aggiungere i fiori alle mele anche con le mani delicatamente mi sembra quasi di star facendo dei lavoretti che si facevano a scuola ai laboratori creativi con i petali di fiori ve lo ricordate? avete visto che bel caramello che si sta formando con lo zucchero e il limone? cercate di mettere anche quello andate piano piano a scavare prendete tutto ecco qui mescoliamo mescoliamo facendo attenzione ai fiorellini a non rovinarli bene così copriamo con un altro po' di acqua li porterete a bollore dopodichè coprirete con un coperchio e li facciamo cuocere per un'ora circa vediamo un po' a che punto stanno i nostri fiorellini avete visto? io l'ho coperto dopo aver bollito abbiamo coperto i nostri fiorellini e portati a una giusta densità in questo modo guardate che belli che colori sembra il purpurì? bellissimo e poi ragazzi ha un profumo guardate che belle che sono diventate le mele che colore avete visto? bellissimo mi dispiace quasi frullarlo quindi ne andrò soltanto a prendere una parte poco meno della metà e il resto io lo lascerò così perché è troppo bello sì procediamo prendete un bicchiere di questo tipo e levate un pochettino di fiorellini e di mele dalla pentola in questo modo ovviamente sto prendendo anche l'acqua di cottura che è ricca di zucchero e frulliamo in questo modo ottenuto una giusta purea la potete aggiungere alle mele e ai fiori della pentola così mescolare per bene e continuare ancora a cuocere fino a quando non si sarà ridotto ulteriormente quindi mescolate bene sentite se serve aggiungere dello zucchero non abbiate paura buonissima aggiungerei anche un altro po' di zucchero e di limone mescolate ad agio non so voi ma questa marmellata mi viene proprio da trattarla con molta cura perché ci sono questi fiori che sono talmente belli bene aggiungiamo anche del limone del succo di limone è rimasta l'ultima metà in questo modo continuiamo la cottura fino a ridurla un altro po' senza coperchio a fiamma moderata gli ultimi 20 minuti e poi saremo pronti per invasare eccomi qua è pronta qualche fiore ancora si intravede il resto è diventato tutto una purea omogenea assaggiate levatevi questa curiosità buonissima se volete potete anche aggiungere dello zucchero di canna scuro quello io lo preferisco ho scelto questo barattolo qui a molla per invasare questa splendida confettura io ho già serilizzato e voi l'avete fatto? vi ricordate come si fa? guardate prendete un imbuto così iniziate a versare parte del composto sul fondo del barattolo e poi alternatelo con dei petali questo è un suggerimento che vi do per rendere il barattolo ancora più bello quindi adesso andrò a mettere qualche petalo di violetta e qualche petalo che mi ero messo da parte delle rose così lateralmente così si vedrà subito che stiamo parlando di una marmellata di fiori anche qui dovremmo scegliere dei fiocchi molto belli romantici questa è una marmellata che potete regalare alle vostre nonne alle mamme qualche petalo di violetta così anche questi petali cercate di metterli più possibile in vista così affinché si vedano bene e continuiamo a invasare ovviamente i fiori che avrete utilizzato per questa marmellata li avete scelti dal vostro fioraio di fiducia oppure siete andati al mercato dei fiori comunque li avete lavati prima di utilizzarli vero? delicatamente con acqua bella fredda tamponati con una carta di cotone o un canovaccio siamo pronti per chiudere è meravigliosa ragazzi meravigliosa questo barattolo non la copovolgiamo perché è un barattolo a molle e non si può comunque ottenere un sottovuoto copovolgendolo lo lasciamo così si raffredderà a temperatura ambiente dopo di che la andrete a riporre in dispensa al riparo dalla luce e poi io vi consiglio di regalarla a una persona proprio speciale il raffredderà Limoncredit